3.000 persone in piazza Ogni Santi a Firenze hanno risposto all'appello della Regione Toscana e del Comune di Firenze e hanno partecipato alla manifestazione insieme contro il razzismo. Una folla eterogenea fatta di giovani e anziani, di tante etnie e religioni diverse, presente anche i leader delle diverse comunità religiose, per dare un segnale forte di unità contro la paura e i rischi di discriminazione anidati nella società. Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e il Sindaco di Firenze Dario Nardella, prima di salire sul palco davanti alla facciata illuminata dal sole della Chiesa di Ogni Santi, si sono fermati a parlare con la gente che ha deciso di partecipare alla manifestazione, rappresentanti di istituzioni, associazioni, terzo settore, ma soprattutto tanti cittadini. Noi non ci rivolgiamo qui in modo particolare contro qualcuno, ci rivolgiamo con un discorso politico che ci sembra strapprendendo piede, sta acquistando anche valore nel senso comune, non lo condividiamo, abbiamo diritto di dire la nostra, di affermare i nostri principi, i nostri valori e anche di richiamare alla ragione. L'evento antirazzista in pochi giorni ha raccolto oltre 2000 adesioni da parte di esponenti del mondo politico, istituzionale e della società civile. Oltre 100 i sindaci, molti dei quali presenti in piazza, che hanno risposto all'appello e che si sono uniti alla manifestazione. Sul palco il Sindaco di Firenze Dario Nardella ha ricordato il senso dell'evento non a caso organizzato a Firenze, medaglia d'oro alla resistenza contro ogni forma di linguaggio che possa inneggiare all'odio o alla discriminazione. E io come sindaco di questa città non posso che battermi per mantenere i valori di libertà e di eguaglianza. Noi oggi qui diciamo no al razzismo, sì alla legalità, perché sappiamo bene quali sono le ansie, le preoccupazioni, le paure dei cittadini di fronte a problemi e sfide giganteschi come l'immigrazione, come la sicurezza. Ma la risposta non è l'odio, la risposta non è la violenza, la risposta non è il razzismo. Queste non portano assolutamente da nessuna parte, anzi dividono e lacerano ancora di più le nostre comunità. Comunità rappresentate dalle storie e dai volti che si sono incrociati tra le bandiere e gli striscioni alzati in aria dai manifestanti, tutti volti a ribadire i valori di uguaglianza sanciti dalla Costituzione e i diritti umani, perché all'origine del clima di odio c'è sempre un disagio sociale, fatto di lavoro che non c'è, di fabbriche che chiudono e di voglia di liberarsi di chi è diverso o straniero. Qui germogliano i semi dell'odio che porta al razzismo e alla chiusura culturale, è stato detto dal palco. Eppure in Toscana è stato ricordato ci sono 400.000 persone immigrate, regolarmente residenti su tutto il territorio e pari a circa il 10% della popolazione. Si parta dal fatto che senza 400.000 immigrati stranieri in Toscana ci sarebbe una regione di disgraziati, impoverita, senza popolazione, senza attività. Nei cantieri della costa lavorano immigrati. Nella zona del cuoio c'è una nuova classe operaia che produce le pelli più morbide e più interessanti del mondo. L'oro, anche a Arezzo, ha un apporto di immigrati. Il vino si produce grazie agli immigrati. I nostri genitori spesso sono assistiti grazie ad immigrati. 5.700 bambini sono figli di genitori immigrati. Ma queste cose le sanno. Allora, anziché attizzare razzismi e odi interetnici, bisogna lavorare per la convivenza perché nella sfida della convivenza c'è il futuro della nostra regione e anche la crescita per la nostra regione. Non sarà facile, ma noi partendo da questo principio siamo convinti che alla fine dobbiamo vincere. Vogliamo ragionare sul nostro futuro con questi valori. Sul palco la libertà e l'uguaglianza tra gli esseri umani cantata con musica e parole dagli artisti e poi le voci vive di chi è arrivato in Italia e in Italia e in Toscana lavora e ha messo radici. Persone arrivate da fuori, ma anche italiani che si trovano in difficoltà come i 318 operai della Beckert di Figline Valdarno che rischiano di perdere il posto dopo la decisione dell'azienda di chiudere i battenti ricordata sul palco anche dal presidente Rossi o voci come quella dei Rom scesi in piazza per manifestare. Noi vogliamo assolutamente una interazione con la società italiana positiva e migliore di quello che c'è adesso. Bisogna assolutamente superare i campi nomadi che sono a forma orrenda di segregazione razziale e trovare altre forme di vita per queste persone che sono, ripeto, costrette a vivere in condizioni disumane e non è tollerabile una società civile che questo avvenga. Per cui non siamo qui per protestare, siamo qui per dire no, ripeto, ad ogni forma di razzismo, ad ogni forma di discriminazione. I colori, gli applausi e le voci che si sono elevate dalla piazza tutte insieme contro il razzismo sono stati, ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, un messaggio diretto contro l'oscurantismo e contro la paura che serpeggia nella società. La risposta è quella che già oggi noi con tutta la forza possibile cominciamo, proviamo a dare e cioè quella di governare, di gestire le sfide e le difficoltà connesse all'immigrazione, di farlo attraverso l'affermazione dei principi di legalità, di farlo attraverso la cultura, attraverso l'educazione, l'educazione alla cittadinanza, di farlo dunque con linguaggi che sono opposti a quelli dello scontro, dell'egoismo, dell'indifferenza. Noi chiediamo legalità, non vendetta. Noi vogliamo civile convivenza, non uomini e donne armati gli uni contro gli altri. Qui ci sono due visioni sociali, politiche e culturali molto diverse. In piazza anche partigiani e portatori di quella memoria più volte evocata dal palco come antidoto al razzismo e al ritorno di fantasmi che sembravano ormai passati. Da loro è arrivato l'incoraggiamento soprattutto ai più giovani a non perdere di vista la storia e a mantenere sempre viva la coscienza collettiva in grado di salvaguardare la libertà di pensiero e l'umanità. Ci sono 80 anni di democrazia, di costruzione democratica, di lotta per la democrazia alle nostre spalle, però sentiamo che c'è un clima che rischia di diventare irrespirabile e noi contro questo clima ci vogliamo mettere, insomma, con i nostri valori, con le nostre idee. Poi se ci saranno polemiche le affronteremo. La Costituzione, all'articolo 3, parla in modo chiaro, dice che ogni persona vale deve essere rispettata, promossa, a di là di ogni appartenenza di etnia, di razza, di religione e di altro ancora. Questo è il principio che ci guida. C'è un'immigrazione, l'immigrazione è un problema da affrontare perché non è certo un cammino su un tappeto di fiori, integrare, combattere anche il lavoro nero, questa massa di riserva di mano d'opera a basso costo che viene sfruttata, che è preda del caporalato che viene usata e strumentalizzata da imprenditori senza scrupoli. Lì bisogna combattere, lottare, la situazione deve essere regolarizzata. Speranze ed emozioni ma anche dati e numeri che descrivono una Toscana multiculturale arricchita dalla presenza degli stranieri che sul suo territorio vivono, gli stessi da cui è stato ricordato nel corso dell'evento ogni anno nascono 5.700 bambini e che in questo modo scongiurano il rischio di crolli demografici. Io sono per il rispetto delle persone e per l'eguaglianza. Siamo tutti uguali davanti alla legge senza distinzione di razza o di etnia. Io sono per dire che è disumana l'idea di schedare sulla base etnica degli individui così come è disumano mettere in prigione dei bambini come è stato fatto negli Stati Uniti strappandoli dai loro genitori. Parole spese ben sapendo che la gestione dei flussi migratori è tutt'altro che è banale e che di problemi ne pone tanti sia a chi accoglie che a chi arriva in Italia. Tra questi il primo problema è la lingua e poi ci sono lo sfruttamento e il caporalato tristemente scoperto anche in Toscana. Anche contro questo è stato il senso del grido che si è levato dalla piazza fiorentina occorre non perdere la bussola dei valori scritti nella Costituzione e rimanere sempre insieme contro il razzismo. Grazie a tutti.